Questa notizia, in apertura, la notizia appunto della scomparsa, della morte a 90 anni di Dario Faux, ebbene, Dario Faux è scomparso proprio nello stesso giorno, cioè oggi in cui sarà assegnato il Nobel per la letteratura che appunto Dario Faux ha ricevuto nel 1997, il 9 ottobre del 97, e la motivazione del premio all'epoca fu perché seguendo la tradizione dei giullari medievali, Dario Faux dileggia il potere restituendo la dignità agli oppressi. Vediamo proprio un brano, un estratto di Faux e la sua vitalità, la sua straordinaria forza teatrale. Me l'hanno detto in una strana occasione, me l'è stata detta chiara sull'autostrada che va da Roma a Milano e c'era un giornalista della Repubblica che passò con un grande cartello in macchina affacciandosi. A un certo punto vediamo passare questa macchina con fuori un cartello scritto Dario hai vinto il Nobel. Poi sono arrivato a Milano, Franca stava recitando proprio qui al teatro Alcalcano, tutta la via era piena di gente, naturalmente dal tempo in cui c'era la destra del comune non c'era nessuno ad accogliermi, il sindaco, il vice sindaco, un portiere, qualcuno che mi dicesse benvenuto ma c'era tanta gente che mi abbracciava.